Enrico D'Assia, figlio di Mafalda di Savoia uccisa a Mauthausen, ha maturato un talento di pittore che questa mostra romana conferma. Arboraggio, una surreale mongolfiera a terra tra alberi. Un melograno spaccato in un immaginario colosseo. Una spirale di spettatori assiste un torneo in un labirinto, piramidi di frutta. Fra voli di colombi un globo precipita contro i famosi campanili d'Italia. Assia trascrive in un'allucinata bellezza calligrafica quelle che si chiamano fantasie dell'inconscio. Forse un trasfigurato ricordo di infanzia è nel manto regale che vola sui comignoli di questa città. Il critico Mariani osserva questo spaventapassari, un'armatura sola come un fantasma desolato.